Giovedì 19 marzo si deciderà in regione Lombardia se dire sì o no all'ampliamento della discarica della Ponte Nossa S.P.A. Alla vigilia di questo appuntamento le associazioni ambientaliste, contrarie all'ipotesi e forti delle 1200 firme raccolte tra i cittadini, si scagliano contro le amministrazioni di Ponte Nossa e Premolo, colpevoli secondo loro di non aver dato una giusta informazione ai cittadini e di aver negato negli ultimi giorni i permessi per continuare la raccolta firme e le attività di sensibilizzazione. Per almeno due o tre martedì è stato rilasciato il permesso per il quale non abbiamo nessun problema a rilasciarlo. Aggiungo che è stata data la sala Caffi, la sala multimediale del Comune di Ponte Nossa, fu messa a disposizione dei comitati di Lega Ambiente, Seriana Ambiente e compagnia Viaggiando, proprio per illustrare alla popolazione la loro tesi e il loro punto di vista. Il Comune non credo che abbia negato, come dicono loro, la possibilità di fare una quarta raccolta firme sempre a Ponte Nossa, credo che gli sia stato solo chiesto di spozzarlo di un paio di giorni per ragioni credo tecniche. Se questo è boicottare, lascio poi il giudizio alla gente. Capelli sostiene poi che le priorità sono altre, cioè garantire occupazione nella zona, cosa che la Ponte Nossa S.p.A. sta facendo da tempo. È chiaro che svolge un'attività che deve essere monitorata e controllata. Io metterei molta più cautela nell'attaccare, così un po' a testa bassa, un'azienda che comunque in questi anni ha dimostrato serietà. In linea con la posizione di Capelli è anche il sindaco di Premolo, Giovanni Gaiti. Voce fuori dal coro, invece, quella di Giampiero Calegari, sindaco di Gorno, il quale annuncia che in regione darà un parere sfavorevole all'ampliamento della discarica. Se infatti venisse approvato il progetto, l'80% dell'area destinata ad accogliere i rifiuti speciali andrebbe a ricadere sul territorio di questo terzo paese. Grazie.